iniziamo dalle gare la prima pista più vicino è la numero 1 e andiamola a fare eccoci qua la corsa carburante fossile facciamola in difficile la più veloce e ovviamente ce ne andiamo con engine ma gli cambiamo abito io non mi ricordo come dicevo cosa volevano dire i simboli se tipo questa vuol dire più veloce questa ovviamente più difensiva ma se così fosse io punterei sulla difesa soprattutto quando ci lanciano il missile a forma di squalo la palla di fuoco e quando prendiamo la scimmia esplosiva quelli sono effettivamente pochi colpi che ti possono shottare direttamente soprattutto se magari hai anche un tocchettino di vita in meno allora siccome appunto abbiamo engine che non è velocissimo prima cosa da fare è fondersi con qualcuno facendo così già ecco fatto dobbiamo tirare giù von kluch perfetto allora aspetta che non riesco a prenderlo preso preso così abbiamo un po di boost extra no 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 crash cosa fai cosa fai crash ma porca bene siamo finiti ultimi sai perché perché crash non sa guidare complimenti io solo dio santo dobbiamo recuperare tutte le posizioni adesso prendi questa padre cosa ho detto padre ho detto padre mi fai ridere perfetto aspetta mannaia a te crash va bene che ho già recuperato ma ho capito che questa questa pista devo guidare io e lui sparare da speravo di prendere un oggetto almeno fatto preso presa in pieno lo so crash mi dispiace ma stanno finendo i colpi se vuoi ci rifondiamo ecco fatto però scusami ma scusami ma tu spari aspetta preso perfetto perfetto no di nuovo maledizione crash ma oggi ma che cacchio di problemi c'hai con la guida a te colpito così forte da aver dimenticato il compleanno levasi crunch perfetto bravo crash meglio meglio mantenerlo cioè io guido e lui spara è la cosa migliore che riusciamo a farla il modo migliore in cui riusciamo a fare questa pista porca troia che sto arrivando su un sottomarino merda merda ok 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 ho ripreso subito il controllo per fortuna bel pilota che sei ok dai un assaggio di distruzione per te perfetto se riesco a prendere un altro po' di busta perfetto mi dispiace per crash è stato un ottimo compagno di squadra ma non condivido la vittoria con nessuno crash scusami non a questo giro anche perché dio mio questa pista ha fatto veramente pena cioè appena ho lasciato il controllo lui subito contro il muro ho dovuto recuperare tutto io a questo giro facciamo anche il minigioco e vediamo qual è bullying no ancora sparare ho sperato fosse il bullying il bullying lo troviamo di nuovo ad astroland va bene 5000 punti si può fare guadagno punti e protegge il sottomarino sparando le mine in arrivo la partita finisce quando il sottomarino perde tutte le vite il sottomarino rigenera una vita ogni volta che sopravvive all'attacco controlli muovi x sparare ok ok spariamo lische di pesce calmo ok perché nessuno mi ha detto che che si sarebbe divisa la mina questa è difficile qua è difficile riuscire a a concatenare perché appena non riesce a beccare l'obiettivo quello perde la combo questo è difficile ok perfetto però aspetta ah no forse no mi sembrava che appena una mina esplode facesse esplodere anche quelle vicine mi sembra che sia così ma non sempre o forse mi sbaglio però siamo già al bronzo e abbiamo perso solo una vita finora o meglio due nel senso l'abbiamo già recuperata una non è difficile non è neanche impossibile è solo un po' scorretto ecco fatto questo è stato scorretto da parte tua tantissimo è stato totalmente ingiusto però siamo già a loro quindi voglio dire esplodi pure dai su fatemi esplodere il yellow sun marine eccolo che arriva nuovo record e soprattutto obiettivo raggiunto dai non è andata male ok prossima pista se che ti dico abbiamo anche abbastanza denari per comprare sia il cristallo sia il vestito che poi il cristallo è nero ma in teoria è viola che vuole comprare il mio cristallo e non farti male mentre mi consegni i soldi e non fare il cattivo bambino 21 cristalli ok il prossimo acquisto è la maglietta che non mi ricordo se è quella per nina questa no è quello per crash ok no questo lo lasciamo un attimo da parte prima le cose importanti altre mille monete sono così felice di mollare quest'affare e andarmene da questo posto bravo ti giuro ci saranno 200 gradi in quella tutta appena finisco il turno scappo da questa topaia con il primo autobus tu divertiti prendi e vai a fare una vita migliore amico mio non riesco a passare altro cristallo altre mille monete oh contanti meravigliosi contanti i contanti ora finalmente posso mangiare grazie signore grazie tante ecco il suo cristallo vai al diavolo prestito studentesco oh no oh no doveva prendere i soldi per mangiare perchè i soldi dell'università costano allora là in fondo c'è la gara in cui ci si spara e andiamola a fare ecco stessa motivazione di prima puntiamo ancora ad engine perchè la sua macchina corazzata in questo giro potrebbe non essere male con chi finiremo in squadra con pasadina secondo me anzi no forse nina forse nina vediamo chi ha ragione allora pasadina neocortex poi non non vedo crunch e coco siamo con crash oh fantastico ho in servo un sacco di sinure atomice per voi va bene crash ok la motosega è un insta kill e cosa ve ne faccio di questo aspetta 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 ecco fatto no ritirati su dobbiamo fare attenzione allora dobbiamo fare attenzione allora vai crash spargli minchia che male prendi i missile prendi i missile bravissimo andiamoci a riparare ci manca un colpo per morire il regalo che ho sempre voluto ok crash per favore bravissimo peccato che siamo esplosi ok aspetta ecco fatto questo mi può essere utile presi in pieno bravissimo beccanina 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 ok forse dovremmo fare cambio forse dobbiamo fare cambio ecco ecco io volevo andarmi un attimo a curare che ce l'hanno appena rubato loro fantastico comunque siamo ancora in vantaggio tutto mio vai crash facciamo cambio ok dove chi ci ha colpito merda crash guida di merda guida in maniera terribile crash non riesco a colpire nessuno niente dobbiamo fare cambio almeno lucia line bot fantastico bravo crash va bene guido io maledizione a te con questo potrò fare un sacco di azioni malvace benissimo ci hanno appena rubato la kill vai spara perfetto no speravo di prenderli ancora ne bramo ancora ci hanno appena no va bene fa niente dannazione come mi mi rimetto dritto maledizione eravamo primi dai però muoviti meglio di pane e burro ok prendiamo i missili come questo per armi potentissime presi bravissimo dai becca quei due lì merda calmo è visuale mi voglio prendere i missili perfetto ora ti nascondo per conservarti e ammetti e toccarti dobbiamo prendere la motosega dobbiamo fare una kill una kill no perché ti rifi da solo maledetta macchina benissimo benissimo ora prendiamo i missili vai perfetto di nuovo la motosega abbiamo vinto meno male ok questa ce la siamo rischiata abbastanza dobbiamo dire non abbiamo fatto un'ottima partita prossima gara aspetta un sacco di pinguini che fanno kung fu altra gara nascosta in mezzo ai ghiacci grazie fammi passare però andiamo sempre con engine sai cosa questo giro usiamo quella veloce la difesa alla fine è relativa ghiaccio bollente si mi sa che è la zona dove abbiamo sbloccato il passaggio segreto l'altra volta ah guarda un po' hanno cambiato tutti le macchine perché l'ho cambiata io l'hanno cambiata anche loro allora subito liberiamoci il passaggio aspetta no crash devi guidare dritto però perfetto 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 un altro forse forse hai bisogno di un'iniezione di velocità guardalo lì il passaggio segreto è un po' inculato così ti distrugga di nuovo perfetto bravo crash continua a guidare bene per favore bravo che sono mannaia crash però guida bene credo di averlo mancato con lo squalo preso benissimo addio a coco addio a pasadina crash la visuale questo sì che mi può essere utile dai preso presa abbiamo ancora cinque missili non li sprecherò perfetti presa ultimo missile e poi abbiamo solo i frutti vumpa crash no non abbiamo neanche quelli ottimo meglio che te ne vada appena arriva qualcuno ci fondiamo subito dio mio era arrivato crunch perfetto con cortex va benissimo dove sei dove sei ma che limiti di velocità rispetto perfetto preso va un clutch non vedo non vedo non vedo perfetto presi e quindi quanto fa male no 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 maledizione devo continuare maledizione crash no cortex scherzato eravamo primi eravamo primi cortex dio mio così posso rifarlo siamo stati primi fino a due secondi o secondi comunque no un quarti allora facciamo così dobbiamo rifarla perché questa pista è un po' incoglinata soprattutto è difficile ci sono troppe curve che loro non riescono a fare si presi presa anche coco presa nina dobbiamo riuscire ad arrivare in prima posizione e restarci cambiamo arma ah ma guarda un po' chi è in prima posizione è patatina perfetto addio bon clutch beccatevi anche la mucca benissimo la mucca non ha assorbito nessun effetto oh ma pasadina vuole proprio averci a con noi oggi eh ecco fatto madonna mia oggi ce l'avete proprio con noi eh torna qui così ti distruggo di nuovo crash dobbiamo separarci perché abbiamo finito le munizioni perfetto ci sarà da farsi male ci sarà da farsi male vieni qua crash perfetto anche nina va bene va bene io continuo a sparare perfetto nina guida guida il ritto dio mio con tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare in prima posizione ecco siamo esplosi addio crash perfetto addio a voi due madonna mia una strage abbiamo fatto nina per favore continua a guidare bene solo mio addio a loro due madonna mia sempre sempre una strage in quelle zone lì con questo creo armi potentissime ok ti prego nina continua a rimanere brava bravissima oddio ho sbagliato tasto ma va bene questa è stata ce la siamo un attimo rischiate infatti mi scuso se sono rimasto zitto ma c'è stato un momento di tensione un po' alto non volevo rifarla nuovamente beh dai 29 uccisioni contando che crash e pasadine non ne hanno fatta neanche una e eccoci qua all'ultima pista i primitivi sempre difficile sempre più veloce e puntiamo ma sto giro facciamo crunch quale delle due prendiamo il monster track type ce la faremo al primo colpo? speriamo eeeh pure i meteoriti eeeh i primitivi eeeh i geyser questa pista non è ma c'è c'è latte dietro engine 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 perfetto la squadra è riunita non riesco a colpirla è troppo sotto ecco fatto cambiamo addio cortex no che ma che cazzo dai dai vabbè abbiamo raccolto il cristallo almeno ma che palle dio mio e non abbiamo beccato nessuno ma com'è possibile che che ste piste fanno tutti schifo dai guido io guido io levati ecco fatto ecco fatto non ho capito perchè in questo mondo tutti quanti fanno schifo il computer a guidare quando sei in coppia vabbè oh vabbè dai porca troia non è possibile che che ogni curva questo gioco fada dove vuole lui non è possibile vieni qua e a sto giro guido io vai via anzi aspetta prima ecco esatto addio a cortex tu guido tu spari io guido no da porca ho criticato tanto e poi guarda che fine abbiamo fatto grazie a crash che comunque ci ha ci ha raddrizzato non so neanche io come abbia fatto ma va bene allora addio engine dispiace ma stavamo già finendo i colpi bene siamo primi perchè hanno beccato tutti quanti meteorite dritto 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 stupidi guys eh non so neanche io come sia possibile che sono primo da solo perfetto chi abbiamo preso? coco va benissimo dai coco tu guida che diavolo stai combinando? ne abbiamo preso una marea ne abbiamo preso una marea uuh calmo la visuale bella colina coco che diavolo stai combinando non vedi non vedi restartene a scuola no 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 guido io gianer di merda uuuuuh gianer di merda gianer di merda gianer di merda Coco Le munizioni Allora si è divisa lei Non mi ricordavo neanche Avesse questa possibilità di farlo Però ecco Coco spara Coco spara bravissima Perfetto Zona meteoriti Cortex Maledizione Ok bravissima tesoro Brava brava patata Addio Cristallo mio Mi dispiace non me ne frega niente Hai voluto lasciare la barca e ora Nuoti da sola Ok ce l'abbiamo fatta Mamma mia Ho criticato tanto La guida del computer ma nel momento in cui dovevamo prendere la strada segreta Pam dritto contro il palo E con questo finalmente Oh 10.000 monete Possiamo Andare A comprarci la pedana per passare Da questa parte Vieni qua Ecco fatto Quanti? 12 cristalli? Ne abbiamo abbastanza anche per il prossimo mondo Però Eccoci qua Il frappe vumpa Te lo lascio un attimo lì Sta mucca a caso Arrivata dal null Ah non è vero La mucca è quella che abbiamo lanciato all'inizio di questo mondo Che l'abbiamo lanciato con la catapulta a caso Vabbè Prendiamo il frappe vumpa e Raddoppiamo i soldi Grazie a tutti